Io sono Giacomo, ho vent'anni e mi hanno diagnosticato l'autismo. Buongiorno e benvenuti dottori professori, allunni, compagni, studenti, ragazze e ragazzi in questo momento che spero vi sarà d'aiuto per comprendere le difficoltà che ho io e le difficoltà di ogni disabile in questo mondo. Con questo filmato mio desiderio è di portarvi a fare una passeggiata un po' curiosa, un po' divertente, un po' seria dentro al mondo dell'autismo. C'è che vorrei farti un'ultima domanda per concludere, ma se un giorno inventassero una pillola che facesse sparire le caratteristiche dell'autismo, tu la prenderesti? Una diagnosi, autismo, centomila volte. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.